Una partita generosa di un uomo di Giorgio Gardini, costruisce i nuovi in panchina. Capitano Lado per Luca Quatrana, attenzione, Quatrana in aria, cale a terra, va giù, mamma mia, Capitano Lado per Luca Quatrana, attenzione, Quatrana in aria, cale a terra, va giù, mamma mia. Quatrana a terra, Capitano Lado, Lado per Luca Quatrana, attenzione, Quatrana in aria, cale a terra, va giù, mamma mia, Quatrana a terra. Capitano Pietro Lado porta palla, alza la testa, vede libero Luca Quatrana, raso a terra del capitano per l'attaccante Bianco Rossoverde, rimorchio di Quatrana, attenzione, però sta colato dal numero 6 avversario Simone Barruccio, e poi dall'estremo difensore del Budoni Federico Donini, Quatrana è a terra, e qui ci sono tutti gli estremi per un calcio di rigore, ma forse l'arbitro la pensa diversamente, Quatrana è a terra, lievi proteste dell'attaccante Bianco Rossoverde nei confronti del direttore di gara.